e benvenuti a tutti ragazzi e benvenuto in un video in cui nessuno si aspettava di questo video ragazzi vi dico delle cose mi raccomando prima di iniziare iscrivetevi al canale se sei nuovo e attiva la campanellina lasciando sempre un bello e cozzo allora io questo video del glitch dell'ubblicazione non volevo mai farlo perché ho mantenuto una promessa da alcuni shop che me l'hanno fornito me l'hanno regalato e tutto però non mi sembra giusto che se questo glitch io non parlo e poi spopola a tutti quanti vuol dire che gli altri hanno parlato e non mi sembra neanche giusto per chi non conosce il glitch deve pagare 20 euro quindi sinceramente si shop che vendete 20 euro il glitch dell'ubblicazione che lo sa mezzo mondo ormai che tra poco verrà anche facciato non mi sembra giusto truffare questi 20 euro quindi lo faccio per tutte le persone che non devo essere truffate perché qua parliamo di un gioco e nella vita reale non va bene e vi dico anche che io non sono in collaborazione con nessuno e mai lo sarò e al momento l'account instagram bloccato non so la motivazione magari ha fatto troppe storie lo sapete che io con un euro di abbonamento di full l'inventario e deposito e questo instagram mi sa che l'ha preso come spam quindi passiamo a glitch ragazzi non ci perdiamo in chiacchiere mi raccomando iscriviti e gratuito mi dispiace che svelo il glitch ma purtroppo ormai tutti i video li potete vedere su youtube sono tutti i glitch di duplicazione le live glitch di obbligazione quindi la mia di colpa non è sono iniziali prima loro ma non c'è rega ok silvio gray troppa tutto quello che c'hai regaliamo alla epic ormai sono le tre di notte lo sto registrando regala regala butta tutto a terra tu adesso devi riprendere il momento triste come le trappole solo questo abbiamo allora facciamo una cosa se lei deve troppare le trappole fammi mettere un poco l'autoclicker no no perché le trappole mi servono quindi è meglio che buttiamo il raggio ma si buttiamo il raggio quindi non regaliamo le trappole no no regaliamo il raggio tanto ne ho volontà quindi ok ragazzi stiamo regalando un 200k tanto per tanto è lei che ti rifornisce glitch quindi grazie mille ragazzi siamo pronti per farvi vedere che funziona in 100 modi il glitch ovviamente ve lo faccio vedere in altri modi e funzioni in tre in quattro persone in 50 persone con le armi con le trappole armi e trappole trappole materiali quello che volete allora io mi pullo e questo è purtroppo signor crei le vuoto qui chiamo ok faccio escivano il gruppo normale ma allora ragazzoni miei tutti e due in oceania ci siamo messi ovviamente però non vi farò vedere il mondo a piedra legno perché ormai lo sapete tutti a piedra legno lo facciamo in vallarguta perché perché io ho quattro che diceva vallarguta montespago tavolaccia e tavolaccia montespago è meglio che me lo tengo che nessuno lo conosce quindi do leader a te ovviamente perché io ho l'inventario pieno e tu hai l'inventario vuoto quindi tu osterai la base prego perfetto abbiamo la mia bellissima base a vallarguta ottimo ottimo e paura adesso sale ricco adesso sarei ricco tranquillo quindi ragazzi diciamo che fortunatamente si esce sempre con lo standard ma ci sono alcuni metodi diversi ok io e quello che faccio io essendo che abbiamo visto anche dei video spagnoli un po di rischi e tutto allora io aspetto sempre quei 20 secondi in cui grey già poi entrare nella base rispetto sempre 20 secondi per farla caricare ovviamente la base ok a 1 e 40 va benissimo devo restare fermo no non puoi non restare primo non dobbiamo fare quello in piedi ne dobbiamo fare un altro ma veramente ne esistono un boccio di altri credo che si potevano fare in tutte le fasi ce ne sono tanti signor grey addirittura oggi ne imparerai un altro beh 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 come anche in chat i ragazzi che stanno guardando il video mi raccomando iscrivetevi attivate la campanellina vi ringrazio 25mila e vediamo un po cosa succede dai allora guarda la mia bella base con 300 mila trappola oddio dove sono spavano nella nella bordata sono spavano ok dove sta allo scudo venga 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 vediamo la scudo da mi permessi per favore oddio per combinare questo non mi prende non mi prende non mi prende è perché c'è la trappola ok la risulta perché mi serve un bar allora gray ascoltare bene io ti troppo quanto spazio dai 140 queste sono cose che delle trappole che mi ha appena staccato ok 140 ok quindi rimetto 139 ascoltami bene devo arrivare a 139 non mi prende niente già stai prendendo vabbè prendi fino a 139 non fa niente prendi o prendi o non prendi o non prendi al stesso tanto è sempre il bacale poi si deve stare subito no questo è un altro passaggio che devi fare e ora lo vedi ovviamente io sono le macro perché io sono un hacker allora cento te ne ho metti cento adesso devo mettere altri 39 forse sono andati anche un po in più per andare andare in più faccia mano ok adesso hai tendo 30 9 ok prendi una trappola nel deposito deposito 1 di raggio dentro al deposito uno di uno stacco scusa uno stacco di raggio prendi una trappola ok e prenditi l'ultimo e quitta dal gruppo lo sentato ok ora vediamo se funzionata ora vediamo ma stiamo facendo indeletto città dal gruppo vediamo un po io di zaino sono di nuovo pieno come vedete ho troppato tutto il raggio ora vediamo un po col signor di re lo invitiamo vediamo un po vediamo un po allora da che finisce si ok metta mette europeo se non guardare l'inventario entra in europa a piedra legno è il mio gruppo ok sono europa non guardare assolutamente l'inventario perché se no ti sbaga e perdi tutto dobbiamo fare un altro passaggio ancora neanche quando sono in base posso no quando sei in base puoi puoi vedere se ce l'hai oppure no però poi se non facciamo il sabotaggio perdi tutta la roba a a b e così e vabbè alfabeto a b c d f g chi c'è io aspetto soltanto la rive madonna non l'aiva d arrivo tranquill a t di mare come due anni fa sarebbe bellissimo arriverà rivera ok vedi l'inventario ho tutto ho tutto ok essendo che tu c'è tutto adesso di troppo della roba ok ma io prendo a seguire troppo alla roba dopo tutto allora per far capire che non è feca ma assolutamente mi spieghi severi e mi credono si vede dagli occhi che ho duplicato ragazzi l'ultima cosa non mi dire nei commenti funziona o non funziona perché funziona lo state vedendo non mi dite nei commenti come funziona perché riguarda del video 100% sono passaggi stupidi di può fare pure un bambino dell'asilo quindi può duplicare anche anche mio nipote di quattro anni sa duplicare quindi non si vede petto ma mi raccomando iscrivetevi vabbè io sto pieno signor grey mi spiagno adesso devo droppare tutti i 140 devi droppare tutti i 140